Il Milan alla quarta barra quinta rosa del campionato italiano. Che ci crediate o no, il 3 maggio del 2022, questa frase qui è ancora legale. Raga, io mi arrendo. Io mi arrendo, non so più in che modo affrontare la cosa, non so più in che modo spiegare la cosa, perché ormai è palese, cioè è tutto un processo mentale. Queste persone hanno sottovalutato il Milan in questi anni, palese. Lo hanno sempre messo dietro nelle griglie, lo hanno sempre messo dietro in quelle famose classifiche virtuali di cui non frega assolutamente un cazzo a nessuno, quindi ammettere, scusate, abbiamo detto una cazzata, abbiamo sottovalutato il Milan, è effettivamente complicato, si sa. Ammettere i propri errori è sempre molto difficile, però mi sono lotto il cazzo. Cioè veramente basta, basta. Cioè siete diventati veramente, non lo so, stucchevoli. Siete diventati veramente stucchevoli, perché come potete veramente pensare che il Milan abbia la quarta rosa del campionato italiano? Ma come fate? Come fate? Cioè allora io posso ancora stare dietro a tutti quelli che tirano in mezzo la Juventus. L'Inter la considero più forte anch'io. L'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, quindi sull'Inter non sto a sindacare. Secondo me hanno ragione. L'Inter nel complesso ha un 11 titolare migliore rispetto al nostro. La rosa dell'Inter non è lunghissima, non è larghissima, anzi ho sempre pensato che le loro riserve non siano niente di che, però l'11 titolare è effettivamente di ottimo livello e nel complesso è più completo rispetto al nostro, perché il Milan comunque ha sempre quei due buchi abbastanza pesanti che sono il trequartista e l'ala destra, che quindi fanno un po' calare il confronto con l'Inter. Però, ragazzi, tolta l'Inter, con cui ci stiamo giocando lo scudetto e che è la squadra campione d'Italia in carica, ma dobbiamo parlare delle altre. Io ripeto, la Juve. Cioè, la Juve ha una squadra superiore a quella del Milan. Io voglio essere chiaro. Tutte queste squadre che sulla carta sono superiori al Milan campano di individualità. La Juventus ha qualche individualità sparsa superiore al Milan, ha qualche veterano, che ormai è al tramonto, ma per il resto, ma di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Cioè, la Juventus gioca senza terzino sinistro da un anno. Alternano Alexandro, Pellegrini. Alexandro che ormai veramente è un ex calciatore, secondo me, perché è da tre anni che sta giocando a livelli imbarazzanti. Alternano Pellegrini, che sì, buon giovane, buon giovane, c'è niente di più, niente di più. Cioè, il centrocampo della Juve. Ragazzi, io non riesco neanche a metterlo a paragone con quello del Milan. Non c'è, ma non c'è paragone. Cioè, allora, noi ancora campiamo con quella pia illusione che ci sia una, non lo so, ci sia un qualche confronto tra gente come Tonali e Locatelli, Rabiot, Rabiot, Zaccaria. Cioè, ragazzi, no, no, non no. Vi dovete purtroppo mettere in quella testa che Tonali fa un altro sport rispetto a tutti questi altri. Tonali fa un altro sport rispetto a Locatelli. L'ho capito che avete tutti nella testa gli europei e il fatto che l'hanno pagato 35 milioni, quindi automaticamente già tutto diventa, già diventa più, più forte. Perché uno dice, cazzo, è costato 35 milioni, sarà più forte. Allora, no, 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 no. Tonali lo porta a scuola, Locatelli, venti volte. Se poi pensi pure che è due anni più giovane, due anni più giovane, il confronto diventa ancora più impietoso. Perché qualunque allenatore sano di mente, tra Tonali e Locatelli sceglie tonali, qualunque allenatore sano di mente, qualunque allenatore sano di mente, tra che sì, Rabiot e Zaccaria prende sempre che sì. Quindi non c'è verso. Non c'è verso. Voi direte l'attacco. Sì, sicuramente, l'attacco ce l'hanno di livello superiore, perché anche lì hanno delle buone individualità. Ma anche lì, individualità. Quando si parla di squadra, anche in un discorso veramente inutile sulla carta, tu devi guardare la squadra, come è costruita, non fare la somma del talento. Perché che cazzo vuol dire? Sì, insomma, è il talento. Cioè, non siamo a FIFA. Il Milano è una squadra costruita meglio della Juve. E non c'è verso. Potete dire, eh, ma se partivamo, se partivamo a settembre, a quest'ora, eravamo... No, no, perché il campionato è iniziato ad agosto, quindi arrendetevi. Non funziona così. Non funziona così. La Juve ha qualche individualità sparsa, ma come squadra, come costruzione, è inferiore al Milano. Accettatelo. idem il Napoli. Il Napoli, cazzo, ancora il Napoli è superiore al Milano. È da tre anni che il Napoli arriva sotto al Milano. Da tre anni che il Napoli è sotto il Milan. Da tre anni che arriva sotto. Di cosa stiamo parlando? Uno può dire, un anno succede, può essere che, non lo so, un caso, hanno overperformato. Ma se una squadra arriva sotto da tre anni, ma ci sarà un motivo. Una squadra che è da tre anni, che arriva sotto, che ha cambiato tre allenatori, ha avuto Ancelotti, ha avuto Gattuso, arriva Spalletti e arriva sempre sotto. Ma un motivo? Ci sarà o no? Ci sarà un motivo o no? No. Vabbè. Non c'è il motivo. Sapete qual è il motivo? Anche lì, perché il Napoli ha individualità sparse, esattamente come la Juve. Tu vedi Koulibaly, vedi Ozymen, vedi Mertens e quindi dici, cazzo, il Napoli ha una squadra superiore a quella del Milan. Poi guardi gli altri otto e ti accorgi che non è così. Perché gli altri otto sono Mario Rui, Rachmani, tutta brava gente, ma è gente che nel Milan non giocherebbe. Sta gente nel Milan non gioca. mai. E dovete iniziare ad accettarlo. Capite? Sti discorsi sulla carta. La carta. Cosa cazzo vuol dire la carta? Cioè, Insigne ha fatto due gol su azione quest'anno. Due. Se togli Rigoria, Insigne ha due gol su azione. Politano ha due gol su azione. Lozano ha cinque gol. Gli stessi di Messias. Ma di cosa si sta parlando? Di cosa si parla? L'Atalanta. L'Atalanta? L'Atalanta? Devo... L'Atalanta? L'Atalanta. Ha una squadra superiore al Milan. L'Atalanta, che è a meno 20. Ha una squadra superiore al Milan. È a meno 20 l'Atalanta! Come fa a essere più forte del Milan? Cazzo, l'evidenza! Cioè, io quando arrivavo a meno 20 negli anni passati e osavo dire il Milan, secondo me, ha una rosa superiore, che ne so, alla Juve. Venivano con le camicie di forza! Venivano! Con le camicie di forza! No, invece no. Oggi no. Oggi si può dire che l'Atalanta ha una rosa superiore al Milan. Ragazzi, mi arrendo. Mi arrendo. Io... Mi arrendo. Non mi interessa più. Non ho più intenzione di ragionare di certe cose. Lo ripeto, questa gente del Milan non ci ha capito un cazzo. Continua a non capirne un cazzo e continuerà a non capirne un cazzo. Quindi, è inutile. Vogliono fare ste cose per accendere il dibattito, accendessero il dibattito, però io devo sentir dire ancora da qualcuno... Cioè, qualcuno mette in mezzo pure la Roma, ragazzi. La Roma. Cioè, io non so di cosa stiamo parlando. La Roma. Cioè, qualcuno mette in mezzo la Roma. Qualcuno dice la Roma ha una rosa superiore al Milan. Cioè, qualcuno riesce a dire anche ste cose. Elenco i nomi, visto che vi piace la carta. Elenco i nomi. Mancini. I bagnez. Carsdorp. Cristante. Dai. Basta. Ve lo dico con il cuore. Basta. Arrendetevi. Arrendetevi. che, lo ripeto, abbiamo capito che state cercando di mascherare il fatto che da due anni che continuate a non capire un cazzo e a fare figura di merda. Però una certa. Basta. Perché sono proprio stanco. Sono proprio stanco di... di stare qui a puntualizzare l'ovvio. Cioè, non ne posso più. Basta. Detto questo, un saluto e forza mila. Speriamo di... non so, arriva a quinti, visto che... anzi quarti. Facciamo quarti. Santo cielo.